Professore, io la ringrazio per avermi ricevuto qui nel suo studio di Firenze dell'Istituto Toscano Tumori per riassumere un po' gli aspetti della collaborazione e guardare al futuro. Ci conosciamo da anni e soprattutto ho avuto sempre piacere e sono stato, scusi se uso la parola inglese, imprest da come Maggi in questi anni si è sviluppato per l'obiettivo scientifico di grande importanza di occuparsi delle malattie genetiche con tecnologie avanzate e poi ogni volta che la vedo lei mi dice abbiamo aperto un laboratorio in qualche altra parte del mondo. Dunque io di questo sono ammirato, mi chiedo sempre ma come fa Matteo, ma lui ce la fa sempre. Io d'altronde ho ricevuto un po' un mandato anche dalla Montalcini la quale mi diceva assolutamente di non dimenticare gli ultimi, di non dimenticare i paesi in via di sviluppo perché le conoscenze sono fatte per essere diffuse. Al proposito dei paesi in via di sviluppo volevo chiedere se ci può riassumere la sua esperienza scientifica in Africa. Come lei sa io sono stato, quando ero giovane, appena ho completato il mio training in ematologia all'università di Ibadan in Nigeria che era allora, direi è tuttora, una delle migliori università africane e ho passato lì dieci anni in un ambiente pieno di stimoli, pieno di colleghi entusiasti e intelligenti. Ho avuto il piacere e l'onore di avere alcuni allievi che poi sono diventati professori in varie parti del mondo e indubbiamente in tutto questo una difficile sfida era come conciliare un'attività di ricerca che per l'università è istituzionale con le richieste incessanti e impellenti dell'attività clinica che era molto intensa. Dunque io certe volte pensavo forse salverei più vite se passassi tutta la giornata a distribuire cloroquina e acido folico, due baluardi contro le anemie e contro la malaria. Ma nello stesso tempo sentivo che per lo sviluppo successivo dei miei studenti era importante anche instaurare un'attività di ricerca e devo dire questa continua ancora. Quali sono le scoperte scientifiche che ha fatto per le patologie ematologiche in Africa, presenti in Africa? Io mi sono diciamo concentrato sempre sulle anemie emolitiche, le malattie del sangue in cui i globuli rossi vengono distrutti prematuramente e particolarmente su due. Una che è ereditaria, la cosiddetta anemia tripanocitica o anemia a cellule falciformi e l'altra molto molto più rara e da allora difficile sapere quale fosse la sua base e cioè l'emoglobinuria parossistica notturna che sapevamo che non era ereditaria ma quando ero in Nigeria siamo riusciti attraverso vari approcci a stabilire che era una malattia clonale e cioè una malattia genetica delle cellule somatiche. Questo fatto allora era piuttosto direi nuovo, cioè il concetto che era sì genetico ma non ereditario perché era dovuto a una mutazione in una cellula ematopoietica e poi abbiamo imparato grazie a una collaborazione con un eminente scienziato giapponese esattamente quale era il gene mutato. Questo è stato un capitolo molto interessante. Alcuni allevi sfavorevoli sono più presenti in certe popolazioni. Qual è la teoria che spiega questa maggiore presenza di alcune patologie genetiche in determinate aree geografiche? La ringrazio perché questo è un altro esempio su cui abbiamo lavorato e direi che è l'esempio quasi paradigmatico è quello proprio del gene dell'emoglobina S. Lei ha detto gene sfavorevole, ha detto bene perché allo stato omozigote dà questa grave malattia, l'anemia tripanocitica. Allo stato invece eterozigote, cioè singola dose, non dà praticamente alcuna manifestazione clinica ma direi quasi prodigiosamente è un forte fattore protettivo contro la malaria e particolarmente alla forma più grave di malaria, quella da plasmodium falciparum che è sempre potenzialmente mortale. Dunque pensi, l'eterozigote è quello che meglio può sopportare la malaria. È chiaro che la frequenza di un gene che permette di sopravvivere alla malaria in una popolazione pesantemente esposta alla malaria non farà altro che aumentare. Ma il guaio è che più aumenta, più aumenta anche il numero degli omozigoti perché nella popolazione quel gene c'è e se due eterozigoti si incontrano produrranno pazienti omozigoti. Noi abbiamo un obbligo doppio di curare questi pazienti perché oltre a soffrire sono loro che portano il peso del vantaggio che questo gene ha conferito all'intera popolazione. Questo direi che è l'esempio tuttora preconizzato da Holden 50 anni fa ma è tuttora l'esempio più lampante di questo meccanismo che è un meccanismo di selezione darwiniana all'interno della specie umana. Possiamo dunque dire che lei è stato uno dei primi scienziati a dimostrare su una patologia umana a base ereditaria come gli alledi sfavorevoli si possono presentare con maggiore frequenza in alcune popolazioni. A chi si occupava di genetica umana il concetto era già chiaro grazie a quelli che ho nominato, cioè Holden e poi Allison e Motowski. Quando ero in Nigeria abbiamo avuto la fortuna di formulare uno schema preciso sul possibile meccanismo non solo per l'emoglobina S ma anche per la glucosa 6-fosfato di etrogenasi un altro gene selezionato dalla malaria. Che differenza c'è tra fare ricerca per una malattia genetica presente in Africa dall'Africa e farla invece stando in un istituto da un'altra parte del mondo. Dal punto di vista scientifico è chiaro che fare ricerca sulla psicocellanemia in Nigeria o in Tanzania o a Chicago dal punto di vista scientifico razionale è la stessa cosa. dove differisce è nel tipo di motivazione cioè un conto è porsi il problema intellettuale di come meglio risolvere un problema di fisiopatologia complessa e un conto è dovere tutti i giorni affrontare un problema clinico di uno o molti di questi malati ed è chiaro che lì la pressione è palpabile ed è a livello umano molto diversa. Dunque io credo che questo fattore umano va tenuto in considerazione, non va trascurato. Che ruolo andrà a svolgere adesso nel nuovo istituto e chi la accoglierà? L'Università di Dar es Salaam o Muhimbili University Hospital è un'istituzione che ha già, credo, più di 40 anni di vita è un campus molto variegato, articolato e ricco di attività L'ematologia in particolare è stata sviluppata in modo veramente notevole dalla giovane collega Giulia Maccani e io desidero andare ad aiutarla proprio perché lei non solo ha messo su un centro di studi di cura dell'anemia del panocitica tra i più vasti del mondo ha nella sua database più di 3.000 pazienti con questa malattia, tra virgolette, rara ma anche perché lo fa in modo contemporaneo ha informatizzato questa database ha un ottimo follow up di questi pazienti e noi speriamo di usare in modo aggiornato queste informazioni proprio per avere un quadro approfondito della fisiopatologia di questa malattia e lo scopo ovviamente è di curarli meglio c'è un paradosso a questo proposito l'idrossiurea è un farmaco accettato per la secca salanimia, nemida panocitica ma paradossalmente sebbene non è di per sé molto caro ma per motivi di accesso, di approvvigionamento eccetera all'atto pratico la maggior parte dei pazienti africani non lo ricevono e una delle nostre priorità sarà di rendere questo farmaco accessibile a tutti i pazienti per cui può essere benefico La collaborazione con Maggi oggi si chiama un accordo di collaborazione come la vedi in questo contesto anche di sviluppo in Africa? Dire che la vedo positivamente è dire poco sarò forse un po' terra a terra ma proprio per questo programma che l'ho appena accennato cioè quello di poter portare l'idrossiurea a tutti questi pazienti qualunque aiuto che Maggi ci potrà dare sarà un godsend aggiungerò però anche un aspetto più scientifico cioè ho detto prima che abbiamo un'idea del meccanismo con cui questi geni aiutano la protezione della malaria ma nel caso della glucosio e fosfato di idrogenasi la questione è ancora piuttosto non chiara e anche controversa e dunque uno degli obiettivi di ricerca sarà di realizzare culture in vitro di Plasmodium falciperum e approfondire insomma io vorrei risolvere questo problema cioè riuscire a capire il meccanismo non solo che protegge lo sappiamo già il meccanismo preciso e c'è anche una come sempre c'è una curiosità scientifica ma c'è anche un riflesso pratico se riusciamo a capire come protegge forse potremmo adottare lo stesso metodo di protezione anche in persone che non hanno questo gene dunque io spero che funzioni non solo per l'anemia trepanocitica ma anche per la malaria che riusciamo a fare qualche passo avanti ecco professore direi che veramente grazie 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 professore